3 per ogni fila, ci siamo? Allora, davanti avete dei corridoi, li vedete? Ok, primo obiettivo, porto palla, andiamo! Ok, adesso posso metterci 4 secondi, pronti, via! Cioè, che fila muove palla veloce? Ok, buona! Pronti, andiamo! Stop! Adesso, ragazzi, finta di colpo, gesto tecnico iniziale, d'accordo? Pronti, andiamo! Vado, d'accordo? Andiamo! Sì, 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 veloce! 4, 3, 2, 1 Bicicletta, chi la sa fare? Proviamo, pronti? Andiamo! Sì, sì! Attenzione che scivola! Andiamo! 4, 3, 2, 1 Fuori Federer Vinta Ronaldo Cambio di direzione, salte Sì, sì, va, sì, va E poi decide dove andare Bravo, Bogdan! Molto bene!